E' lì, auto. Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Ah, una carta dei supereroi. Domanda, se potessi avere un superpotere, quale sarebbe? Forse... l'invisibilità. Scelta interessante. E' solo per spiarmi, vero? Stai con Shimmer? Sì. 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 oh è questa la zq già occhio alle sentinelle vlf intrusi uccisi a vista simpatici almeno sappiamo di essere nel posto giusto dove sono tutti hanno messo un avviso significa che c'è un ingresso sembra che siano delle crepe sulla parete in alto dove sono quei bastardi fico a 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 ok chissà quando risale la base del serevena è già qualcosa un generatore che a a a a a a a a ha a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.